C'è quattro ore e mezzo di sostegno, che ne devo fare? Mi figlia è grave. Cioè sono pochi 18, certo. Abbiamo chiesto il minimo, dai 15 alle 18 ore. Quando i vostri figli hanno l'insegnante di sostegno e quando non ce l'hanno, cosa notate in loro? Qual è la differenza? Quando tornano a casa? I professori dicono che si lamentano, perché si disturbano. No, 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 non pensiamo solo a questo. Perché non pensiamo al danno psicologico dei nostri figli e di noi genitori? Certo, questo è importante. Questa è la cosa più grave. Quando tua figlia, tu te la vai a prendere e ti dice, mi hanno accantonato. Perciò stiamo parlando di ora, del 2000, di sentenza del 2012. del Tardicatano, perciò figuro. L'ufficio scolastro regionale della Sicilia, in terminale della provincia. Niente, con tutto, tutto ti parla delle leggi che ho uscito di rapporto 1-1. Invece il provvedorato ha risposto che non esiste rapporto 1-1. Chi l'ha detto mai? Stanno aiutando, perché hanno detto che hanno fatto dei tagli, però non è giusto che la fascia più debole ne paghi le conseguenze. Non è giusto. E c'è una legge della 104-92,3 che ti dice che il rapporto 1-1 esiste questa legge. Perché non la devono rispettare, non la devono attuare alla scuola? Specialmente per i nostri figli gravi. C'è la comma 1, ma la comma 3 hanno diritto almeno a 18 ore. E non a chi 4 ore e mezza, a chi 9 ore. Non esiste questo discorso.